Nella mattinata di ieri è finito in manette un giovane straniero residente nel centro storico di Pesaro, nella cui abitazione sono stati trovati alcuni barattoli contenenti marijuana per un peso complessivo di circa 40 grammi, materiale che il giovane utilizzava per l'attività di spaccio, rinvenuto anche un bilancino e diversi sacchetti che servivano a contenere i quantitativi acquistati dai clienti. Le operazioni sono state condotte dagli investigatori della sezione antidroga della questura di Pesaro, in particolare all'interno di un mobile della sala del giovane è stata trovata anche una busta contenente la cosiddetta ecstasy, nonché nove pasticche di cui otto di colore giallo ed una verde ancora frazionabili in pasticche di minori dimensioni. In alcune di queste era impresso il logo Rolls Royce. A convalidare l'arresto per il giovane in questione, questa mattina il giudice del Tribunale di Pesaro e non accenna a diminuire il consumo di estasi tra i giovani, anche nella serata di venerdì scorso, gli agenti della mobile della questura di Pesaro hanno perquisito a Talacchio di Vallefoglia un giovane originario del nord Italia trovato in possesso di alcune pasticche di estasi, in quel caso di colore viola. Le stesse sono state poi sequestrate dagli agenti. Grazie.